Ogni terza domenica del mese e, su prenotazione negli altri giorni, sarà possibile partecipare alle visite didattiche Un Tuffo nel Blu, dedicate a famiglie e scuole con bambini e ragazzi speciali, ma in generale rivolte a tutti. Il percorso di visita partirà dai depositi del museo, recentemente resi accessibili, e continuerà nelle sale espositive dove, ponendo l'attenzione su alcuni tra i reperti più belli e significativi dell'antica Poseidonia, si cercherà di ricostruire la storia e la cultura della città più importante della Magna Grecia. Con un Tuffo nel Blu, l'arte e l'archeologia diventano uno strumento di immersione delle diverse intelligenze e potenzialità della persona. Il museo diventa un luogo di vita, aggregazione ed inclusione, che dà ad ogni partecipante l'opportunità, nel rispetto dei propri tempi, di vedere e vivere il museo come una personale ed intima esperienza. Continuiamo a lavorare sull'accessibilità e sull'inclusione, sapendo che c'è ancora molto da fare, di care il direttore Zug Triegel, ma anche che, con piccoli passi concreti, si possono raggiungere obiettivi importanti. Durante la visita i partecipanti avranno a disposizione strumenti originali ed innovativi con cui interagire e potranno partecipare dei laboratori appositamente ideati. L'immagine di presentazione dell'iniziativa Un Tuffo nel Blu è stata realizzata da Antonella Ricciardi, dell'associazione Cilento For All, che racconta «Ho scelto l'immagine del tuffatore per rappresentare un giovane che si tuffa letteralmente nella mente di un ragazzo con autismo. La condizione autistica è rappresentata dal blu, colore simbolo dell'autismo, che circonda la bocca del soggetto illustrato. Il mio disegno lo dedico a tutti i ragazzi affetti da autismo, sperando di aver espresso al meglio il principio della diversità, che non ne fa degli assenti, ma li rende semplicemente sensibili in un modo diverso. L'iniziativa è realizzata grazie ad una collaborazione a tre voci, che vede coinvolti il personale dei servizi di accoglienza di didattica del museo, la società cooperativa Tulipano Cilento For All e il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell'Università degli Studi di Napoli Partenope, da sempre impegnato nella promozione di iniziative che mirano l'inclusione sociale.